collare d'oro al merito sportivo capitano del sette bello vincitore degli olimpiadi di barcellona nel 92 campione di europa del mondo sette volte campione d'italia proprio sotto di lui il numero 7 fiorillo nella sua carriera di atleta mario fiorillo ha vinto tutto e dall'anno scorso e coach e presidente della squadra di pallannuoto olimpic roma sostenuta da poste italiane e impegnato nel campionato italiano di serie a2 il passaggio da grandi vittorie da atleta al bordo vasca per insegnare anche le tecniche di base è un passaggio difficile non facile bisogna avere l'umiltà di calarsi una realtà completamente diversa però è anche un passaggio che ti dà l'opportunità di avere grandi soddisfazioni perché sono il primo ad essere estremamente umile nel lavoro che metto quotidianamente nel cercare di insegnare la pallannuoto e i valori dello sport ai ragazzi questo sicuramente facilita il rapporto tra 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 me e i miei ragazzi io fin da quando ero piccolo venivo a vedere partite di pallannuoto dei campioni questo le partite in televisione del del nostro allenatore presidente mario fiorillo un grande campione l'impionico era un esempio sicuramente uno stile di vita da seguire l'entusiasmo che nasce dal rispetto per il coach e compagni la collaborazione e lo spirito di sacrificio sono i valori che accompagnano questa squadra giovane determinata attenta ai risultati sportivi ma anche alla salute alla promozione di uno stile di vita sano e sostenibile in prima linea su tematiche sociali importanti come l'inclusione solidale sportiva delle persone con disabilità il primo evento che siamo riusciti a organizzare grazie ovviamente al contributo di poste italiane è stato nella giornata nazionale mondiale dell'autismo insieme al progetto filippide abbiamo organizzato e partecipato alla run for autism a roma dove hanno partecipato circa 2000 persone e noi siamo andati ovviamente con tutto il nostro settore giovanile e la prima squadra e abbiamo ovviamente portato il nostro apporto e tutti i nostri ragazzi un cammino che prosegue con nuove iniziative in cantiere per il futuro nel segno dello sport dell'impegno sociale e della vicinanza al territorio sport è importante in tutti i sensi fisico mentale e anche sociale anche per le interrelazioni tra persone conoscere giocare insieme a fare squadra fa bene a 360 gradi siamo estremamente contenti e felici della della collaborazione della parte nel ship composta italiana una grandissima azienda tra le più grandi d'italia quindi per noi solo un onore avere la possibilità di avere tra i nostri partner un'azienda come poste italiane ogni partita vediamo il tab il vostro tabellone diciamo che ci fa il tipo di tipo